Buongiorno, buongiorno. Pioggia, vento e freddo, la settimana è iniziata con Attila e con una rapida diminuzione delle temperature. L'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno ha tenuto questa mattina una prima riunione operativa per allertare i servizi dedicati ai senza tetto in previsione del primo calo delle temperature della stagione, preparandosi ad avviare il potenziamento delle misure destinate all'assistenza e all'accoglienza di quanti dimorano in strada. Questa mattina a Palazzo di Città il primo tavolo operativo preseduto dal sindaco Vincenzo Napoli e dall'assessore alle politiche sociali Nino Savastano, dalla consigliera comunale Paola De Roberto, con le associazioni di volontariato, rappresentanti dell'area fragilità dell'asla di Salerno, protezione civile, ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, Lions, Croce Rossa e le parrocchie per affrontare l'emergenza freddo. Si lavorerà insieme alle associazioni di volontariato, si è detto questa mattina, nel corso della riunione operativa per garantire posti letto e dare ricovero ed assistenza ai senza tetto. Oggi iniziamo la prima riunione operativa con tutte le associazioni di volontariato che da tempo lavorano su quest'area e in più oggi abbiamo invitato anche l'area fragilità dell'asla per un progetto che hanno loro per vedere come mettere insieme gli interventi e fare qualcosa ancora di più importante rispetto allo scorso anno. Nello scorso anno abbiamo utilizzato soprattutto la chiesa dei Cappuccini a Piazza San Francesco, il ricovero che hanno loro, credo che riprenderemo questo intervento con le stesse caratteristiche dello scorso anno. E vediamo gli operatori cosa dicono, se ci sono ulteriori strutture che si mettono a disposizione per queste persone. Anche se questo è un lavoro difficile che fanno gli operatori del volontariato. Però voglio dire, l'anno scorso l'intervento fatto, organizzato da loro, soprattutto da loro, ha avuto una buona disponibilità da parte anche delle persone che sono per strada. Quindi vogliamo sicuramente augurarci che questo intervento quest'anno funziona meglio ancora dello scorso anno. Per l'accoglienza notturna si confermano gli stessi luoghi utilizzati lo scorso anno. La chiesa dei Cappuccini di Piazza San Francesco a Salerno, ma non si esclude che possa essere utilizzata anche la struttura della zona industriale di Via dei Carrari per ospitare più persone. Nel 2016 siamo stati una best practice riconosciuta in Italia, ospitando 84 senza tetto, ha sottolineato la consigliera comunale di Salerno, Paola De Roberto. Già l'anno scorso abbiamo svolto un'attività in qualche modo di coordinamento, permettendo alle varie associazioni di volontariato di lavorare in rete. Questa è l'opportunità che in qualche modo si sta provando a sfruttare. Lavorare insieme alle associazioni di volontariato per garantire sempre di più la qualità del risultato. Naturalmente il Comune metterà risorse, come ha fatto l'anno scorso, per garantire sempre più posti letto. Quest'anno è probabile anche che si aprirà la struttura di Via dei Carrari per permettere di ospitare quante più persone è possibile. L'anno scorso siamo stati una best practice riconosciuta in Italia. Abbiamo ospitato 84 persone e per fortuna tutte le abbiamo potute assistere nell'avitto, nell'alloggio e nelle cure. Quest'anno la sinergia con l'ASL permetterà ancora di più di attivare azioni di prevenzione e cura importanti per tutta la comunità salernitana.